Una spiacevole scoperta di quelle che lasciano un alone di malessere e di rabbia perché subire un furto non è giusto, ma se a rimetterci sono associazioni e volontari, allora il danno lascia spazio alla beffa. È successo a San Giorgio in Bosco, dove alcuni vandali hanno forzato la porta del chiosco vicino allo stadio e fatto razzia, per così dire, dei pochi viveri presenti e di qualche cimelio sportivo. Non è la prima volta che qualcuno si introduce nella struttura. Il ramarico di chi la gestisce e della società sportiva Rosso Verde è quello di vedere penalizzata una realtà all'interno della quale operano tanti volontari.